Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi della situazione presenze allo stadio, della situazione biglietti che è diventato l'argomento più discusso nel mondo Lazio. Vorrei dedicare la prima parte di questo video ai tifosi della Roma e la seconda parte alla società sportiva Lazio, sperando che questo video arrivi appunto a chi di dovere. Mi fanno sorridere quei tifosi della Roma che ironizzano sulle presenze allo stadio di Lazio e Roma, con la classica battutina dal 1900 a capienza ridotta, mi fanno sorridere alla luce di quella che è stata la media spettatori di Lazio e Roma negli ultimi tre anni prima della pandemia, prima della quarantena. Ecco le statistiche. Se facciamo una media di questi dati, scopriamo che la Lazio ha avuto una media spettatori di 36.500 e la Roma di 38.000. Una differenza minima nelle tre stagioni precedenti alla quarantena, alla pandemia. Se invece estendiamo queste statistiche agli ultimi 16 anni, quindi dal 2006 fino ad oggi, e facciamo appunto una media sia per la Lazio che per la Roma, scopriamo che negli ultimi 16 anni la Lazio ha avuto una media spettatori di 30.000 a partita, mentre la Roma di 38.000. Una differenza di 8.000 spettatori a partita. Però bisogna contestualizzare queste statistiche, perché negli ultimi 16 anni Lazio e Roma non hanno lottato per gli stessi obiettivi. La Roma ha lottato per lo scudetto diverse volte, fino all'ultima giornata, nella stagione 2007-2008, nella stagione 2009-2010, nella stagione 2013-2014 e nella stagione 2016-2017. La Lazio invece, diversi anni, ha navigato a metà classifica, nel 2007-2008, nel 2008-2009, nel 2009-2010 addirittura in zona di retrocessione, nel 2013-2014 e nel 2015-2016. Inoltre la Roma ha raggiunto la Champions League ben otto volte negli ultimi 16 anni, a fronte delle tre volte in cui c'è entrata la Lazio. Quindi c'è una grossa disparità di obiettivi raggiunti e di piazzamenti in classifica tra Lazio e Roma negli ultimi 16 anni, quindi bisogna contestualizzare anche questo. E una piccola differenza di media-spettatori. Com'è? Soprattutto quando poi devo leggere che i romanisti sono il triplo. I romanisti sono il triplo, ma non si evince da queste statistiche. Il romanista è più passionale, il romanista è più attaccato alla maglia, attaccato alla squadra, scusate, questo è quello che sto leggendo in queste settimane, in questi giorni. Eh, grazie, grazie, soprattutto se il metro di paragone è questa stagione. Il metro di paragone non può essere questa stagione, perché in questa stagione abbiamo i due opposti. Abbiamo i due opposti. Una società, la S Roma, che ha fatto e che sta facendo di tutto per spingere il tifoso allo stadio, e un'altra società, la SS Lazio, che invece sta facendo tutto il contrario. Il tifoso dallo stadio lo sta allontanando. E quindi è un metro di paragone che non può funzionare. Non può funzionare se poi vediamo che nei tre anni precedenti alla quarantena, alla pandemia, Lazio e Roma hanno avuto la stessa identica media-spettatori. La stessa identica. Che cosa vediamo quest'anno? Quest'anno vediamo che il tifoso della Lazio, ex abbonato, ex abbonato, che è sempre andato in curva nord, ha speso fino ad ora, considerando Lazio-Milan, 550 euro. 550. Incluso solamente il campionato. E il romanista, invece, per la curva sud, tutte le partite, lo stesso numero di partite, ha speso 290 euro. 290 euro il romanista, 550 al tifoso della Lazio. Curva sud, curva nord, per lo stesso numero di partite, lo stesso stadio. Praticamente la metà. Basta vedere l'ultima settimana. Cioè, il romanista, ex abbonato, per i quarti di finale di Conference League, in curva sud, ha pagato 5 euro. 5! Un biglietto 5 euro. Il tifoso della Lazio, che invece dovrà andare a Lazio-Milan, in curva nord, in curva nord, ex abbonato, dovrà pagare 40 euro. 40! A fronte dei 5 euro dei quarti di finale di Conference League, per lo stesso settore, per lo stesso stadio. 5,40 euro. La tribuna Tevere, il tifoso romanista, ex abbonato, può permetterselo a 10 euro. Il tifoso della Lazio, ex abbonato, per lo stesso settore, dello stesso stadio, 85 euro. 85, per non parlare della tribuna Montemario, che è clamoroso. La tribuna Montemario. L'ex abbonato della Roma può andarci a 14 euro. L'ex abbonato della Lazio, a 115, 115 euro. Una differenza abissale di costi. Differenza abissale. In più, mettiamoci, che i tifosi della Roma hanno potuto usufruire dell'abbonamento, per la stagione, di mini abbonamenti e dell'abbonamento stagionale. I tifosi della Lazio no. I tifosi della Lazio no. Invece, con gli abbonamenti, si faceva la stessa identica media a spettatori, prima della pandemia. Delle battutine, in realtà, non me ne frega niente, ma devo leggere che il tifoso della Roma è più passionale. È più passionale. Ma lo sarebbe anche il mio vicino di casa, se la Lazio facesse... Il vicino di casa che non tifa, che non guarda il calcio. Sarebbe più passionale se i biglietti costassero come costano quelli della Roma. Ragazzi, su, facciamo i seri. Qui, qui stiamo parlando di onestà intellettuale. Di onestà intellettuale. Il tifoso della Lazio è stato spennato. È stato spennato. Da inizio stagione. Il romanista, invece, tre partite in casa a 20 euro. Mi ricordo il mini abbonamento. 20 euro in Curva Sud per tre partite in casa. La Lazio, per tre partite in casa, contro Salernitana, Spezia e Cagliari, ha pagato 75 euro. 75 euro. Il quadruplo. Il quadruplo. Per partite come Cagliari, Spezia e Salernitana. Quindi, non è una differenza di passione. Non è una differenza di attaccamento alla squadra. Non raccontiamoci favolette, ragazzi. È una differenza di società. La Roma, che il tifoso lo sta spingendo allo stadio. E invece la Lazio, tra l'altro la S Roma è una nuova società, quindi c'è anche l'entusiasmo della nuova società. Invece, dall'altra parte, c'è una società, la SS Lazio, che il tifoso lo sta spingendo via dallo stadio. Lo sta allontanando dallo stadio. Con dei prezzi folli. I prezzi di Lazio-Milan sono prezzi folli. Folli! Ma perché sono stati scelti questi prezzi? Perché si sapeva che i milanisti sarebbero arrivati in massa. per una partita che per loro vale uno scudetto. E quindi, facciamo cassa con i tifosi del Milan. Facciamo cassa con i tifosi del Milan che vengono dal Nord. E invece nessuno sconto, nessuna agevolazione, nessun privilegio per i tifosi della Lazio che invece ci sono sempre stati. E da qui arriva la contestazione della curva Nord. Non è una contestazione sui prezzi. È una contestazione sul fatto che i tifosi della Lazio, che ci sono sempre, da inizio stagione, non hanno nessuna agevolazione. Sono trattati come tutti gli altri. Sono trattati addirittura come i tifosi del Milan che vengono dal Nord. Tutto questo per fare soldi. Questo è il vero problema. E l'errore della società Lazio non è un errore in mala fede. È questo il brutto. Che un conto è che se lo facessi apposta. Il problema è che la società Lazio non ha neanche la consapevolezza di quello che succede, di quello che fa. E quindi io spero che ci sia un passo indietro da parte della società. Ho sentito voci di possibili agevolazioni per Lazio-Verona, Lazio-Sandoria, l'ultimo due di campionato. Ma a me non me ne frega niente. Basta che arrivino. Basta che arrivino queste agevolazioni. Basta che ci sia finalmente un passo in avanti della società verso i tifosi della Lazio. Cosa che c'è stata dall'altra parte. Ecco qui la differenza di presenza allo stadio. Che invece negli anni scorsi non c'era. Forza Lazio, sempre e per sempre. Ciao ragazzi.